Oggi Focus vi porta a Lucca, insieme a Vetrina Toscana Tavola, alla decima edizione del Desco, per scoprire piatti tipici lucchesi preparati dai ristoratori della zona. La cocina lucchese è il nostro territorio, ciò che ci offre la possibilità di esprimerci con la nostra fantasia ai fornelli. Essere uno chef a Lucca è diverso che essere uno chef di qualsiasi altro territorio. Lucca ci offre tutto, dal mare alla campagna alla pianura, abbiamo dalla farina di formentone otto file fino al pesce povero. E quindi il nostro territorio è una risorsa inesauribile per noi, è una fortuna poter essere uno chef nel nostro territorio. Noi oggi per esempio abbiamo cucinato i fegatelli nella rete con i rapini, ora siamo in piena stagione, i carciofi, appunto la farina di castagna, che la carfagnana ce ne offre ancora in grande abbondanza, i cavoli, in Lucca c'è una grandissima varietà, dalla pesa alla braschetta, il cavolfiore, il cavolo nero, il cappuccio, e poi una grandissima, grandissima, immensa varietà di fagioli. Io avrei pensato a un paio di rivisitazioni di piatti tradizionali, una è una zuppa di farro, ma è rivisitata con i carciofi, quindi una crema di carciofi che viene cotto dentro questo cereale, che appunto è forse il più rappresentativo del nostro territorio. In che modo si prepara? Ma guarda, è molto semplice, un carciofo fresco, si cucina, si fa bollire in acqua, si passa molto finemente, nel frattempo si perla, si dice, appunto si rosola il farro, si fa una crosticina, si fa sì che il guscio del farro rimanga un pochino croccante, croccante, si uniscono e si finisce il condimento con dell'olio naturalmente lucchese e possibilmente in questo momento dell'olio nuovo. E poi vediamo anche dei fegatelli, questi in che modo si preparano? Sì, il fegatello con la rete è un altro piatto della tradizione, sono fegato di maiale che viene rosolato all'interno della rete, anche questo è di maiale, cotta nello strutto, quindi un piatto non leggerissimo, però molto nutriente. E c'è una piccola sorpresa che ho fatto apposta per voi, che sono gli ossi di Sant'Anna, è un piatto del 1350 lucchese, si racconta di una storia di quando i barghigiani, in lotta contro i pisani, si difendevano all'interno delle proprie mura e questi maiali, spaventati dai rumori della guerra, sono scappati ai pisani e sono diretti verso Barga. In quel momento i barghigiani avevano aperto le porte della città per andare incontro ai fiorentini che erano loro alleati, i fiorentini che stavano portando loro del nutrimento e delle armi, e i maiali si sono tutti infilati dentro Barga, e sembra, questa è una leggenda, si racconta che quando questo greggio di maiali è entrato dentro Barga, i barghigiani abbiano urlato aiuto aiuto arrivano i pisani alla vista del maiale, questo però fa parte della tradizione e della leggenda. Il maiale viene poi bollito in acqua, perché l'olio bollente veniva usato per la guerra, per difendersi e non per cucinare, e quindi bollito in acqua con ginepro, con alloro, sale in brani, tutte le erbe aromatiche che a Lucca sono molto utilizzate, e servito con la farina di castagne. Con quali vini si possono accompagnare questi piatti lucchesi? Un vino con un po' di tannino, quindi sicuramente un doc ricolline lucchesi. Direi che in linea di massima gli uvaggi utilizzati per la doc ricolline lucchesi sono tutti adatti per questi tipi di piatti, che sono piatti importanti, hanno bisogno di un po' di tannino, un po' di forza, che accompagni e che bilanci il palato. Credo che la lucchesia, come molte altre terre toscane del resto, conservino un po' i segreti di una volta, del vecchio mangiar bene, della tradizione, e quindi in molti locali troviamo piatti tipici della nostra infanzia, che oggi vengono però anche rivisitate alla luce di nuove tecniche di cottura e di accostamenti di ingredienti che una volta magari non erano utilizzati tutti i giorni. Quali sono i piatti tipici lucchesi più richiesti? Ma i piatti tipici più richiesti sono sicuramente i tortelli o comunque la pasta ripiena, quindi i ravioli, i tortelli, e sono il baccalà, che è un piatto che fa parte della nostra tradizione, e le rovelline, che sono della carne fritta, impanata e poi ripassata in padella con il pomodoro e i capperi, e poi la carne in generale, quindi il maiale, il piccione, piuttosto che ovviamente il manzo, la classica tagliata. Noi qui a Lucca abbiamo il fagiolo rosso di Lucca, con cui vengono, è la base di moltissime preparazioni, sia soprattutto di primi piatti, la farinata, la zuppa, la frantoiana, piuttosto che semplicemente una passata di fagioli o una minestra nei fagioli. Il fagiolo poi viene usato anche come condimento, appunto accanto all'arista, piuttosto che al manzo, perché è sicuramente uno dei piatti, degli ingredienti, dei prodotti più tipici di questa terra. I turisti apprezzano molto la cucina toscana in generale, quella lucchese in particolare, e sono attratti proprio dai nostri gusti, dai nostri sapori, dal nostro vino e dal nostro olio. Non capita spessissimo, anche se noi non le proponiamo, di vedere magari farsi da soli una bruschetta con il pane che mettiamo in tavola e con l'olio che l'accompagna. Il Desco è una bellissima manifestazione che promuove queste eccellenze del territorio e quindi l'olio in primis è, come dicevo prima, un'eccellenza del territorio, quindi ha trovato una giusta collocazione al Desco e trova una giusta collocazione sulle nostre tavole. Come si prepara questo piatto che hai presentato? Si prepara in tre fasi, si preparano prima le chiocciole che vengono spurgate e poi cotte in un fondo di sedano, carota, cipolla, aglio e aromi e cotte per lungo tempo, per tre ore circa, vengono brasate, viene una carne inumida. Poi a parte si prepara il rognone che viene cotto, lasciato riposare, mi raccomando rosa dentro, lasciato riposare e poi scaldato, nappato nel burro e aromi. E poi si prepara il risotto che è un risotto semplice che viene portato fino a fine cottura senza nessun elemento esterno. E poi in mantecatura si aggiunge la salsa verde, in una salsa a base di prezzemolo, aceto, acciughe, aglio e capperi, burro e parmigiano in mantecatura fuori dal fuoco. Poi si compone stendendo il risotto sul piatto, aggiungendo sopra le chiocciole con la loro salsa, aggiungendo delle fettine di rognone di vitello e a completare il piatto un po' di fondo di vitello, un po' di fondo bruno classico. Grazie per la visione!